Ha preso il via durante l'ultima riunione del Consiglio Provinciale il procedimento per l'approvazione del bilancio 2012-2013 con termine quest'anno prorogato dalla legge nazionale al 31 marzo, l'ultima volta in conclusione di mandato per fare gli indirizzi di bilancio ricordando i risultati raggiunti fino ad oggi nonostante la scarsità di risorse e le difficoltà causate dal patto di stabilità. 160 gradi, molti sono le opere che sono state realizzate in virtù anche di finanziamenti che non sono propri del bilancio della provincia e quindi c'è stata veramente un'azione forte politica di concertazione con altri enti. Il Consiglio ha inoltre approvato la mozione presentata dalla Federazione della Sinistra relativamente al taglio delle risorse previste dal Governo nei confronti delle linee ferroviarie, tagli che riguardano in particolare la linea La Spezia-Pisa e la linea Via Reggio-Firenze, due tratti che collegano il territorio lucchese con il resto della Toscana. Abbiamo voluto presentare questo ordine del giorno perché secondo noi risulta estremamente grave il taglio di queste linee anche perché va sommato a un altro taglio che è previsto per l'altro settore, sempre il trasporto pubblico locale quello relativamente al bus dove sono anche in questo caso previsti tagli sia del personale che delle linee. La mozione, non condivisa dal centro-destra, ha visto alcuni membri del Consiglio abbandonare l'aula durante la discussione. Il trasporto pubblico locale voglio ricordare che è la Regione Toscana che deve finanziare invece qui magari si tenta sempre a dire non per difendere il Governo ma che il Governo taglia quindi sempre questo discorso taglia il Governo, a un certo punto maggioranza contro minoranza sempre questi discorsi ci ha portato poi a un certo punto ad alzarsi dall'aula e uscire perché ci sono stati dei contrasti fa capigruppo di maggioranza opposizione.